un modo di pregare anche in quaresima è quello di usare la bibbia e in particolare il libro degli salmi sono 150 antiche preghiere che anche gesù utilizzava la maggior parte di queste preghiere venivano cantate non importa oggi che tu lo canti ma prova a pregare nella giornata di oggi con questo pezzo preso dal salmo 145 l'oderò per sempre il tuo nome o signore ti voglio benedire ogni giorno l'oderò il tuo nome in eterno e per sempre buono è il signore verso tutti la sua tenerezza si espande su tutte le creature il signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto grazie a tutti grazie a tutti